Domenica 18 settembre prende inizio la prima iniziativa Napoli per Napoli che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini al rispetto alla collaborazione per l'ambiente, per le aree al verde. È un'iniziativa che parte attraverso il convergimento delle dieci municipalità le quali hanno individuato 15 siti che saranno sottoposti all'attenzione dei cittadini. Come partecipare? È sufficiente collegarsi sul sito istituzionale del Comune di Napoli troverete lì l'iniziativa Napoli per Napoli e potrete scegliere su quale sito intendete donare la vostra partecipazione. A questo punto l'appuntamento rimane a domenica 18 settembre ore 10 presso il sito che è stato da voi scelto e lì troverete non solo i rappresentanti dell'istituzione ma soprattutto i rappresentanti dell'associazione ambientalista che da primo momento con grande entusiasmo hanno accolto questa nostra chiamata.